Rilanciare la crescita dell'economia italiana assicurando il coordinamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione del sistema produttivo. E' questo l'obiettivo della prima riunione della cabina di regia per l'Italia internazionale, presieduta il 18 luglio alla Farnesina, dai ministri degli esteri e dello sviluppo economico Giulio Terzi e Corrado Passera. L'organismo svolge un ruolo decisivo per definire le linee guide ed indirizzo strategico per assicurare al sistema paese una più efficace presenza nei mercati globalizzati. Il modello messo a punto risolve problemi in passato non risolti e aiuterà ad aumentare esportazioni e investimenti. Qual è questo modello? Unice nuovo, molto concreto, molto professionale che si occupa di promozione, si occupa di informazione, si occupa di formazione nel mondo dell'internazionale internazionalizzazione che però ha intorno tutti coloro che possono contribuire. Ministero degli esteri, Ministero dello sviluppo economico insieme al Ministero dell'agricoltura, Ministero del turismo, ovviamente il MEF, ma poi le regioni. Uno strumento che raccoglie e mette a sistema tutte le principali voci interessate all'internazionalizzazione delle nostre imprese e all'internazionazione della nostra economia. Riparte con la cabina di regia, unice profondamente innovato nelle sue strutture e anche nelle modalità di raccordo con la nostra rete diplomatica con la quale diventa un tutt'uno. La cabina di regia è quel luogo molto concreto dove le imprese prima di tutto, i cinque ministeri principalmente impegnati, la rappresentanza delle camere di commercio, cioè l'Union Camere, le regioni si trovano e si dicono tutto quello che stanno facendo, che vorrebbero fare e mettono le loro risorse in comune. A questo punto c'è la comunanza di obiettivi e di strategie che vengono assegnate all'ICE come organizzazione operativa per la sua realizzazione. Per far sì veramente che d'ora in poi si lavori come sistema.